Tanti auguri a noi, tanti auguri a te Sì, hai visto? Hai visto? I cani! No! 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 Nathiland! No! Nathiland! Dati lento! Dati lento! Italia 1! Non c'è il volante, esatto! Italia 1! Gasso Michael Swenet! Ehi! Ehi! Ma non devi mangiarlo eh! Ma non devi mangiarlo eh! La prossima volta, non fate mori! Ma non state mori! Ehi! No! Ah si! Mettine la vita! Hai visto le galline? Allora, aspetta! 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 Angela e Cinzia! Aspetta che gli faccio... Non vede le galline! Non vede le galline! Non vede le galline! Non c'è un ditto! Luca hai visto il taglio del cioccolato? Un piatto! Sì, ma manca il sallevamento! Sì, ma manca il sallevamento! Un cavolo! No, non lo vedo!